I cittadini del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni non hanno nessuno strumento per far sentire la loro voce, formulare proposte, presentare stanze, in una parola sentire l'ente come un'istituzione vicina ai loro problemi. Il presidente del Parco ha 30 giorni di tempo per comunicare quali siano stati gli adempimenti statutari in merito alla partecipazione dei cittadini. E' quanto richiesto nella diffida, inviata dal difensore civico della regione Campania, avvocato Giuseppe Fortunato, a seguito di un'istanza firmata da cittadini attivi provincia di Salerno, residenti in diversi comuni dell'area Parco e dell'intera provincia. In assenza sarà costretto a rivolgersi agli organi di governo per chiedere urgentissimi interventi che potrebbero portare alla sostituzione degli organi dell'ente, incapaci di assicurare e garantire la partecipazione dei cittadini. Il gruppo cittadini attivi provincia di Salerno, dopo aver verificato la totale mancanza di regolamenti in materia di partecipazione civica, seppur previsti dallo Statuto, ha ritenuto non più tollerabile permettere ad un'istituzione patrimonio dell'UNESCO e che nei suoi confini comprende 80 comuni ed 8 comunità montane, una gestione avulsa dei reali bisogni del territorio, che vede sempre più i residenti orientati a considerare l'ente, che dovrebbe essere un agente di tutela e sviluppo, come un soggetto ostile, nega i più elementari strumenti di partecipazione volte a permettere ai cittadini di attivare iniziative di consultazione, valutazioni di proposte e soluzioni, in forma individuale o associata. Così il difensore civico chiede al governo di sciogliere gli organi incapaci degli antiparco, che non sanno assicurare la dovuta partecipazione ai cittadini e subito sostituirli, mentre sostengono i promotori, la predisposizione di istituti che permettono di poter predisporre proposte e suggerire soluzioni di problemi che possono provenire direttamente dai cittadini, permetterà di ridurre, da una parte a rafforzare la sudditanza, dall'altra ad incentivare la diffidenza nell'ente in particolare e nell'istituzione in generale.